... Oggi a Cerrovo il turno, i funerali della giovane Romina de Cesare, brutalmente uccisa dal suo ex a Frosinone, indetto in lutto cittadino nel paese di origine. Il commissario ad acta della sanità Donato Toma sarà presente lunedì al Consiglio Comunale a Campobasso sul tema della sanità con attenzione al nuovo piano operativo sanitario. La provincia di Isernia e il comune di Venafro risultano i soli due enti che hanno proposto progetti rispondenti ai finanziamenti del piano nazionale di ripresa e residenza per la realizzazione di nuove scuole. La zalea della ricerca nelle piazze molisane oggi e domani per la festa della mamma al lavoro volontari di numerose associazioni per la ricerca sul cancro. Un caro saluto e ben ritrovati con l'informazione del telegiornale di TLT. Oggi a Cerrovo il turno, i funerali di Romina de Cesare. Nel suo paese d'origine è stato indetto il lutto cittadino, la celebrazione alle 16 nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo. Intanto emergono anche nuovi scenari a seguito dell'autopsia eseguita nelle scorse ore. La giovane ha trovato la morte con tre coltellate al cuore, al fegato, 15 in totale inferte brutalmente dal suo ex, sul corpo anche dei segni di strangolamento. Una vicenda che lascia senza parole convalidato l'arresto al responsabile che si trova ancora sotto interrogatorio. Il commissario ad acta per la sanità Donato Toma sarà presente lunedì al Consiglio Comunale di Campobasso convocato sul tema del nuovo piano operativo sanitario. Vediamo. La richiesta di un Consiglio Comunale a Campobasso, convocato su un unico punto all'ordine del giorno, quello relativo al nuovo piano operativo sanitario, è venuta dal sindaco Roberto Gravina. Il Consiglio è previsto per lunedì 9 maggio, a partire dalle 8.30 e vede la presenza del commissario ad acta per la sanità molisana Donato Toma e molto probabilmente anche del subcommissario Giacomo Papa. Una seduta già preventivamente aperta alla consulta sanitaria comunale, ma anche alle associazioni, comitati ed organizzazioni che operano nel settore della tutela della salute. Volentieri andrò al Consiglio Comunale di Campobasso, come sono stato al Consiglio Comunale di Sernia, come sono stato al Consiglio Comunale di Agnone e come sarò glielo anticipo al Consiglio Provinciale di Sernia perché vorrei illustrare ai consiglieri che rappresentano i cittadini di Campobasso le linee guida lungo le quali ci muoveremo per la redazione del piano operativo sanitario 2022-2024. e ascolterò anche le osservazioni che i consiglieri avranno da fare. Il Cardarelli rimarrà a Dea di primo livello, questo è certo, a Dea di primo livello potenziato. Capiremo meglio quali sia il potenziamento che dovremo proporre ai tavoli ministeriali. Una vita salvata grazie al pronto intervento dei carabinieri di Agnone che hanno fermato una 21enne intenta a tentare di togliersi la vita su un viadotto all'altezza di un suolo di circa 70 metri tra i militari accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118 anche i familiari. Ora la ragazza si trova in ospedale per le cure del caso. La provincia di Sernia e il comune di Venafro risultano i soli due enti molise scelti tra quelli che hanno proposto progetti rispondenti ai finanziamenti del bando del PNRR per la realizzazione di nuove scuole. Parliamo del bando del PNRR con scadenza il 28 febbraio scorso relativo alla realizzazione di nuove scuole innovative, sostenibili, sicure ed inclusive. Molti gli enti istituzionali molisani che hanno proposto progetti in tal senso ma ne sono stati accolti soltanto due, quello della provincia di Sernia e quello del comune di Venafro che risultano così essere inseriti tra le 216 scelte e finanziate, 189 progetti presentati dai comuni e 27 dalle province. L'importo totale dei soldi che arriveranno nella nostra regione sono poco più di 16 milioni di euro, 7 milioni e 300 mila sono stati assegnati alla provincia Pentra mentre Venafro potrà contare su più di 8 milioni. È un risultato importante per il territorio della provincia di Sernia, ha sottolineato il presidente Alfredo Ricci che è anche sindaco di Venafro e dunque doppiamente soddisfatto per il risultato raggiunto. Un risultato che premia questi ultimi anni di impegno amministrativo e tecnico per migliorare l'edilizia scolastica rendendola più sicura e moderna. Gli edifici da realizzare attraverso un importante progetto ristrutturante sono il liceo artistico Manu Pella di Sernia che dovrà diventare moderno e sicuro, un ottimo punto di riferimento per l'intero territorio provinciale e la scuola media di via Maiella Venafro, la storica sede dell'Istituto Pilla, un progetto che consentirà di recuperare l'intero complesso, la scuola, la palestra e gli spazi esterni attraverso la demolizione dell'esistente e la ricostruzione di una scuola nuova e conforme alla normativa sismica. Crisi energetica in materie prime, accesso al credito per le imprese in difficoltà nel Decreto Aiuti 2022 è prevista la garanzia con la copertura al 100%, ma andiamo a vedere come. Crisi energetica e materie prime, ci sono novità in arrivo sul fronte dell'accesso al credito per le imprese in difficoltà in regione. Nel Decreto Aiuti 2022 è prevista la garanzia esmea con la copertura al 100% per i finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese agricole, che abbiano registrato nel 2022 un aumento dei costi per l'energia, per il carburante o per le materie prime. I prestiti dovranno avere una durata di massimo 10 anni per un importo non superiore all'ammontare complessivo dei costi. La somma totale messa a disposizione è pari a 180 milioni di euro. Ora manca solo la definitiva approvazione da parte della Commissione europea che renderà operativa la nuova misura. La crisi energetica sta mettendo in ginocchio un intero settore, proprio l'emergenza liquidità merita assoluta priorità di intervento. Solo nei giorni scorsi a Campobasso, dinanzi alla sede del Consiglio regionale, un nutrito gruppo di imprenditori del posto aveva manifestato con mezzi agricoli per chiedere più sostegni. A rischio l'intera produzione, anche la zootecnia ne ha risentito e notizie come queste mettono in moto qualche speranza in vista di una ripresa. In municipio a Termoli è stato presentato questa mattina il distretto dell'olio Evo Molisano. Per i giovani agricoltori si aprono nuovi scenari nel campo dell'occupazione e nelle campagne. A disposizione ci sono risorse economiche nazionali ed europee. L'obiettivo del distretto è quello di produrre un alimento biologico e di elevata qualità. Parliamo adesso della pesca. In arrivo i contributi economici dovuti al coronavirus, una boccata di ossigeno quindi per i pescatori del posto a seguito del carro gasolio a causa dei conflitti bellici tra Ucraina e Russia. Pesca, arrivano i contributi Covid per il Molise. Boccata di ossigeno per i pescatori del posto. E quanto commenta Basso Cannarsa, coordinatore regionale di Federpesca. All'indomani dell'allarme lanciato da Paola Marinucci dell'Associazione Armatori Pesca Molise sulle gravi difficoltà che sta vivendo la marineria stretta nella crisi del carro gasolio, in queste ore giunge l'annuncio di un contributo economico connesso al Covid. In questo momento di forte crisi economica dovuta agli attuali costi altissimi del carburante che non permettono alle imprese di pesca di fare reddito, l'accredito in questione del contributo economico concesso al valere dell'intervento Covid-19 per le imprese di pesca ed acquacoltura rappresenta per il comparto un vitale sostegno. Federpesca ringrazia la regione ed in particolare il servizio di coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca. Gli armatori sono consapevoli che questo aiuto non rappresenta la soluzione del problema in considerazione del non rassicurante scenario geopolitico, ma consente per il momento di poter continuare a lavorare per il sostentamento della propria imprese e soprattutto per le famiglie dei propri imbarcati. I rappresentanti degli armatori titolari delle imprese della pesca in Italia si sono dati appuntamento oggi a Pescara in Abruzzo per discutere il da farsi sul rispetto dei tanti problemi che gravano su di loro a partire dagli aumenti insostenibili del gasolio. Alla base dell'incontro la volontà di redigere un documento che sarà inviato al governo e al ministero competente, dove chiariscono le loro proteste chiedendo ancora altri aiuti e soluzioni. Nel 2021 finanziamenti per lavori che renderanno migliore la viabilità di Campobasso, il bilancio da Palazzo San Giorgio. Sviluppo e fruibilità del territorio, ma anche progettualità per il futuro. L'assessore lavori pubblici al comune di Campobasso, Giuseppe Amorosa, attira le somme delle attività svolte con il suo ufficio nel capoluogo molisano. Nel corso del 2021, ha spiegato, sono stati richiesti i contributi per progetti di rigenerazione urbana con risorse confluite nell'ambito del PNRR, messi a punto la demolizione e la ricostruzione della scuola Montini per oltre 6 milioni e 800 mila euro, la ristrutturazione e riqualificazione dell'ex mattatoio comunale in piazzale Palatucci per 600 mila euro, la manutenzione per il riuso funzionale di un immobile sequestrato alle organizzazioni mafiose da adibire a finalità pubbliche per 400 mila euro, il completamento del Parco della Musica, il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità cittadina con la demolizione della scuola di primo grado Dovidio e ricostruzione con integrazione di uffici comunali e parcheggio pubblico per oltre 10 milioni di euro. Approvato e presentato poi lo studio di fattibilità per il miglioramento di edifici pubblici e privati nell'area denominata Cantiere della Transizione Pinqua, a disposizione circa 15 milioni di euro. Inoltre il Comune ha presentato la proposta Campobasso Città Accogliente, attrattiva e vivibile riqualificazione del Terminal Bus e del Parco Urbano Scarafone, beneficiando di più di 865 mila euro. Approvato il progetto di fattibilità per 3 milioni e 450 mila euro. Importante e ricordato amorosa anche quanto realizzato rispetto allo stadio in contrada Selvapiana con l'ampliamento della capienza degli spettatori. Infine, per migliorare la sicurezza di alcune strade e delle opere ad esse connesse, attraverso interventi di manutenzione inderogabili ed urgenti, è stato stilato un progetto per un importo di 400 mila euro. Sono state eseguite le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, che a breve dovranno iniziare, interessando la rotatoria Campoconi-Selvapiana, le contrade Santa Lucia e Coste di Oratino, via De Pretis, via Scardocchia, Sant'Antonio dei Lazzari e via Principe di Piemonte. Si concluderà domani a Carovilli il corso di accompagnatore cicloturistico nato da un'idea della cooperativa di comunità Terra Mea. Dieci gli allievi provenienti da diverse regioni del paese. La teoria si alternerà alla pratica sui sentieri dell'Alto Molise. La zalea della ricerca nelle piazze molisane, oggi e domani a lavoro nella vendita delle piantine, i volontari dell'Aido Avis e Associazione per la ricerca sul cancro. Oggi e domani l'Associazione Donatori di Organi celebra le mamme con la giornata della rosa in alcuni centri della provincia di Isernia dopo due anni di stop forzato, al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di tessuti e organi. Ogni anno circa 8.000 pazienti hanno bisogno di un organo compatibile da trapiantare, ma la disponibilità è purtroppo molto limitata. La donazione di cellule dopo la morte è un gesto di responsabilità perché può salvare la vita persone gravemente malate che non hanno altra possibilità. I volontari Aido in Alto Molise saranno presenti nel capologo di provincia fino a stasera in via Sant'Ippolito e domani in piazza Giustino Duva, piazza Achille Palmerini, nel quartiere San Lazzaro e in viale dei Pentri. Domani mattina invece lungo corso Campano Venafro in piazza De Salvio a Macchia Godena e nella piazza Antistante la Chiesa Madre a Macchia di Isernia. Stende e punti informativi anche a Civitanova, Carovilli e Pescolanciano da parte dell'Associazione per la ricerca sul cancro. Per supportare la ricerca, la cultura della prevenzione e la sensibilizzazione verso la diagnosi precoce, appuntamento anche a Termoli in piazza Vittorio Veneto nella giornata di domani attraverso la vendita delle piantine azalee. Un evento sociale per far rinascere in molte donne la speranza in un futuro più libero dal cancro. In occasione della Festa della Mamma, iniziative domani anche a Pietracatella. Il gruppo per sostegno alla ricerca scientifica mette a disposizione le azalee della salute per la campagna Mamma sei un fiore. Dalle 10 alle 16 nella sede del comune. Inoltre, come da tradizione, l'8 maggio si terrà anche la festività di San Michele Arcangelo, previste messe e processione dalle 19, accompagnata dal complesso bandistico. La Fondazione Molise Cultura e la Cargo Produzione al Teatro Il Talo Argentino di Agnone hanno proposto la rappresentazione teatrale La Gratitira, un evento con protagonisti molisani. Andiamo a vedere. Mi chiamo Lorenzo Giorgio, ho 47 anni e tre quarti. Vengo da un piccolo paesino nel Molise che si chiama Aururi, che sta vicino al mare. Però non è che sta proprio sul mare. Non mi sono mai mosso da Aururi. Gaetano invece ha viaggiato tantissimo. Faceva l'operaio alla Fiat, a Termoli. E nel resto del tempo se ne stava nella sua officina. L'unica volta che ho viaggiato sono andato a Campobasso ad accompagnare Gaetano a fare il documento di invalidità. Stavo andati con la mia macchina, una panda azzurrina. Sullo specchietto retrovisore è attaccato una coda di volpe. Me l'ha portata l'anno scorso mio cugino dalla Svizzera, che lui abita là. Torna la pièce teatrale e musicale nella sua realizzazione totalmente molisana dal titolo La Gratitira, un richiamo alla pietra lunare della cultura arbreche che porta gli spettatori in un mondo dai forti richiami della memoria e costruisce la profonda ricerca delle radici. Lo spettacolo è stato proposto al Teatro Italo-Argentino di Agnone, dalla Fondazione Molise Cultura e dalla Cargo Produzioni. La Gratitira è uno spettacolo che nasce da un progetto europeo molto più grande, molto più complesso, con come promotrice la Fondazione Molise Cultura. Questo spettacolo che portiamo in scena stasera al Teatro Italo-Argentino di Agnone è la prima replica fuori progetto e speriamo che il pubblico di Agnone lo possa accogliere con felicità entrando a teatro e godendosi lo spettacolo. La storia della Gratitira parte dal protagonista Giorgio che si trova in un momento della sua vita a prendere una decisione molto importante, partire o no per l'Albania dove fondamentalmente risiedono le sue origini. In un viaggio onirico e irreale ripercorrerà la sua infanzia in cui ha avuto un rapporto particolare con la madre e con la zia e in cui anche le musiche, in questo caso dirette dal maestro Spedino Moffa, fanno da collante per tutta la storia. Sul palco Marco Caldoro, Serena Minicucci, Barbara Petti, Enrico Petti e all'interno dell'orchestra Manuel Petti, Marco Molino e come dicevo Giuseppe Spedino Moffa. Partendo da un progetto di ricerca sulla cultura triatica abbiamo proposto in questo progetto europeo la cultura arbreche che ci sembrava una cultura innanzitutto ricca di sfaccettature creative ma soprattutto di angoli nascosti, magici ed onirici. Quindi abbiamo unito insomma una grande cultura che andrebbe in qualche modo anche veicolata di più perché è molto particolare e molto interessante per le persone che non la conoscono ma è anche una terra e una cultura che possiede anche delle particolarità molto interessanti anche a livello scenico. Stiamo lavorando per portare la gratitira in giro vorremmo innanzitutto partire in una piccola tournée appunto nei comuni Arbresce d'Italia per poi magari approdare nelle altre città sperando che insomma lo spettacolo possa accogliere un bacino di spettatori molto ampio. E restiamo sempre sul teatro la commedia comica La valigia sul letto di Edoardo Tartaglia torna a scena sul palco del dopolavoro ferroviario di Campobasso questa sera alle 21 e domani pomeriggio invece alle 18 lo spettacolo è stato allestito dalla compagnia teatrale Terza Classe. Gli allunni del liceo classico Mario Pagano di Campobasso hanno animato con i numerosi interventi musicali e teatrali l'ottava edizione della notte nazionale delle scuole noi li abbiamo visto. La notte del liceo classico è una manifestazione che si colloca tra gli eventi più innovativi e significativi nella scuola degli ultimi anni è giunta all'ottava edizione e coinvolge numerosi licei sul territorio nazionale compreso quello di Campobasso il classico dedicato a Mario Pagano qui gli allunni hanno affrontato il palcoscenico dando vita alle loro esibizioni attraverso brani musicali coreografie da loro stessi ideate azioni teatrali letture drammatizzazioni varie il tutto nel segno di un tema che hanno voluto chiamare la bellezza di sognare si sono così messi in campo in una proposta culturale che ha toccato anche il percorso giornalistico dando voce con accurate interviste ad alcuni attretti di fama nazionale ed internazionale come Maria Centracchio e Donato Telesca una iniziativa che vuole dimostrare ancora una volta come il viaggio formativo del liceo classico non si risolve soltanto nell'acquisizione di specifiche competenze negli ambiti umanistici e più strettamente legate alla cultura greca e latina ma attiva un'adeguata e solida base di conoscenze che permette agli studenti di far maturare anche le attitudini individuali la notte del liceo classico è un evento che viene organizzato quasi sempre da tutti i licei classici perché rappresenta un'opportunità per il territorio per vedere che cosa significa il liceo classico tutte le attività che vengono svolte vengono in qualche modo riassunte all'interno di questa notte e quindi chi è invitato ma anche chi non è invitato perché è un evento aperto può venire a vedere che cosa significa il liceo classico molto spesso diciamo le persone con qualche anno in più sulle spalle come me pensano che il liceo classico sia rimasto magari ai tempi di quando è stato frequentato l'associazione La Repubblica di Maiella in collaborazione con il comune di Agnone la Proloco ripropone l'antico rito popolare del fuoco di San Michele l'appuntamento si inserisce nelle manifestazioni del fuoco di Agnone ed è in programma domani quando in Piazza del Popolo a partire dalle 21 si procederà all'accensione del grande falò dell'altezza di 12 metri quest'anno avrà un'altra importanza quello di sostenere la pace in Ucraina andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo Tiele Timorise sarà visibile sul canale 77 del tuo telecomando scarica la nostra app Tiele Timorise da Google Play Store cielo coperto e piogge diffuse fino al pomeriggio di oggi su gran parte del Molise condizioni climatiche in lento miglioramento dalla sera le temperature sono previste tra i 9 gradi di Campobasso e la massima di 18 gradi via di Sernia ventilazione debole nord orientale mosso il medio adriatico domattina saranno possibili ancora deboli piovaschi sulla regione valori atmosferici in ripresa correnti settentrionali quarta ultima giornata nel calcio interregionale di serie di Il Vasto Girardi ospita il porto d'Ascoli domani alle ore 15 trentunesima giornata trentunesima giornata Castelfidardo Trastevere San Nicolò Notaresco Pineto Chieti Aurora Alto Casertano Fano Nereto Castelnuovo Vomano Tolentino Matese Re Canatese San Benedettese Montegiorgio Vastese Fiuggi Vasto Girardi Porto D'Ascoli Re Canatese 64 punti Trastevere Tolentino a 54 Fiuggi 47 Vastese Porto D'Ascoli 46 punti Pineto San Benedettese 45 San Nicolò Notaresco Chieti 43 Matese 42 Castelnuovo Vomano 41 punti Montegiorgio e Vasto Girardi 40 Fano 38 Castelfidardo 34 Nereto 12 Aurora Alto Casertano Chiude a 7 punti Ultimo turno della stagione regolare in eccellenza il Termoli Fresco vincitore del campionato ospita al Cannarsa e Pugliesi dell'Atletico Torre Maggiore Trentesima giornata a Campopasso 1919 Boiano Termoli Pietra Monte Corvino Campo di Pietra Aurora Ururi Isernia San Leucio Altilia Samnium Gambatesa Cliternina Guglionesi Venafro Sesto Campano Castel di Sangro e Bolturnia Olimpia Agnonese Termoli 78 punti Sernia San Leucio 70 Campo di Pietra 66 Olimpia Agnonese 65 Venafro 58 punti Sesto Campano 48 Pietra Monte Corvino 44 Guglionesi 41 Aurora Raururi 40 Gambatesa 34 punti Boiano 33 Campopasso 1919 a 29 punti Castel di Sangro e Cliternina 22 Volturnia 16 Altilia Samnium Un punto Dopo la vittoria del torneo di calcio di eccellenza a termoli festeggiamenti ufficiali volusi dall'amministrazione comunale per il ritorno in serie di dopo sette cia stagioni sportive di anno minimato in regione tifosi e squadra in festa questa sera alle ore 21 in piazza Sant'Antonio. Due giornate al termine della promozione regionale lotta serrata per la griglia playoff negli ultimi 180 minuti di torneo Turris e Campomarino si giocano la vetta. Ventinomesima giornata guardia Alfiera Donkeys Agnone Riparimo Sani Turris Termoli 2016 Virtus Gioiese Trivento Maronea Esernia Campomarino San Pietro in Valle Petacciato Torre Maggiore Juvenes Campobasso Baranello Spinete Turris in testa 63 punti Campomarino 61 Virtus Gioiese 56 Termoli 2016 55 punti Riparimo Sani 49 San Pietro in Valle 47 Petacciato e Trivento 46 Spinete 36 punti Baranello ed Esernia 32 Guardia Alfiera e Juvenes 25 Maronea 18 Torre Maggiore 17 Donchessagnone 16 punti Domani a Pietracupa torna il tiro con l'arco La società Arcieri del Molise ha promosso la gara interregionale 3D Sagome tridimensionali valida per la qualificazione ai campionati nazionali di specialità e per il campionato regionale a Pietracupa arriveranno alla sfida 40 arcieri provenienti da Campania, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia e dal Molise. Il Cusso Molise conquista l'accesso alla finale regionale del torneo di pallavolo 3 contro 3. Gli atleti guidati da Marco Santucci e Michele Sulmona sono stati protagonisti nelle tre tappe della carmessa riservata al settore giovanile per i giovanissimi pallavolisti del centro universitario sportivo. E' stata una vetrina nella quale hanno confermato la crescita generale del movimento. E con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Come sempre vi ringrazio e vi lascio alla nostra programmazione. Arrivederci. Grazie.